Come andiamo adesso? Andiamo che si gioca ogni tre giorni, andiamo alla Chesterfield. Oggi alla squadra non posso rimproverare nulla, sicuramente è una partita molto differente dallo scantolo. Abbiamo un gioco ogni tre giorni, la prima volta è in Chesterfield. Oggi, sinceramente, non ho nulla a dire per la performance. È diverso dal precedente, quindi dobbiamo iniziare ancora. Certo, c'è un tre giorni extra, capito? Hai anche avuto i giocatori a half-time in una routine di tre giorni. Hai aiutato? Hai aiutato di questo regime più frequente. No, ma abbiamo bisogno di conoscerci sicuramente. Purtroppo la conoscenza ci vuole del tempo, quindi abbiamo sicuramente passato più del tempo insieme cercando di parlare e di conoscerci meglio. L'allenamento ce n'è bisogno, però non è che era nulla di punitivo. È una questione solo di conoscenza. La squadra più intensa di tre giorni, non c'era qualcosa come una punizione, era un modo di riconoscere un altro bene, perché in due mesi non c'è tanto tempo per riconoscere un altro come giocatori e persone. e quindi era utile per capire i giocatori migliori. Perchè c'erano Hedges e Cox? C'erano Hedges e Cox, sì. Perchè tante cose non si sanno. Cox è stato male domenica, lunedì si è allenato ma non stava bene e quindi non era in grado di poter giocare 90 minuti. È troppo facile fare la formazione dal di fuori. Cox è un giocatore importante, ce ne sono altri. Non era in condizione perché è stato male, ne avevamo parlato questi giorni e quindi non era sicuramente un problema. C'erano? C'erano ci sono delle cose che le persone non conoscevano. Cox è stato un buon Sunday. C'erano solo attraverso la domanda, quindi non era in condizione di giocare. C'erano solo attraverso la domanda. E' un giocatore molto importante per noi. C'erano in condizione giocata per iniziare il gioco oggi. Sean Batt si è arrivato per Chris Tegnoll. Cosa cercate di raggiungere? Cosa volevi fare con la costituzione di Batt? In posto di Dago? Volevo mettere un giocatore un pochino più fresco vicino a Lisby che non riusciva ad attaccare più la profondità e quindi Batt comunque ha creato un paio di situazioni, è arrivato sul fondo, ha dato un pochino più di viviacità. Delle volte si fa un cambio, Dug era stanco, ma non per questo è una bocciatura di Dagnall. Ho visto che con me ha giocato sempre e quindi è stato un cambio. Ho solo chiesto più profondità nel gioco. Ho visto che Dagnall era un po' forte. Ho considerato che Dagnall è un giocatore importante e ha sempre giocato da qui. ma ho chiesto un giocatore fresco che potrebbe attaccare il canale e in fact Batt creare un pochino di Dagnall. Vi ricordi che abbiamo scelto il giocatore per la giocatore a Colchester, i giocatori per la giocatore contro Scantop. Chi era la scelta di oggi? Magari Colchester era un po' colpa dell'arbitro nella partita con lo scanto era più colpa ai giocatori ma oggi posso spiegare chi era colpa. Io di solito non trovo sempre una colpa. È un momento così. Io penso che oggi la squadra obiettivamente ha fatto una buona partita, ha creato occasioni, ha preso un gol. Io penso che abbiamo fatto la disattenzione subito iniziale e poi quella del gol, poi altre occasioni non le hanno create. Noi penso che abbiamo fatto almeno i presupposti per poter creare le occasioni, abbiamo preso una traversa. Il calcio è così. Chi la butta dentro poi festeggia e gli altri non riescono a festeggiare. Non è l'intenzione di trovare qualcuno a giocare. Io credo che oggi è stato un gioco dove abbiamo conceduto un po' di chances a loro inizio del gioco una volta che avevano, una volta che avevano, una volta che avevano, una volta che avevano. Però, sinceramente, ci sono delle cose che non avevano fatto prima perché per il resto del gioco abbiamo creato molti chances e, infatti, la squadra non va in. è una volta che avevano.